ciao a tutti benvenuti sul mio canale bentornati in questo nuovo video oggi parleremo di counseling e di consena che cos'è il counseling allora la storia del counseling non è perfettamente lineare o perfettamente chiara nasce o chi sanno che in realtà nasce da parte di alcuni operatori sociali questo termine di counseling quando aiutavano i soldati nei primi del novecento che rientravano dalla guerra a reinserirsi nella società e nel mondo del lavoro la prima però forma scritta testimonianza scritta del counseling è del 1908 ed era utilizzata da frank parson dopodiché fu ripresa nel 51 da car rogers che parlava di counseling come una specializzazione diciamo così della psicologia e della della terapia psicologica dove il paziente anzi non si chiamava neanche paziente dove il cliente dove il cliente la persona che veniva aiutata veniva lasciata libera di scegliere per cui venivano date veniva dato un ascolto e una precursione al suo stato di superamento della della problematica del del discorso poi via via il counseling soprattutto nei paesi anglosassoni negli stati uniti ha preso varie ramificazioni una delle quali quello che vedete spesso nei film americani è il counseling scolastico il consolo scolastico c'è quello che orienta e consiglia che orienta i ragazzi durante i loro corsi di studi e cosa fare anche dopo i corsi di studi che segue loro e le loro famiglie nei momenti di difficoltà questo veniamo poi invece a noi in italia in italia il counseling ufficialmente non esisteva fino al 2013 2014 quando è stata introdotta la norma generale sulle professioni non provviste di albo professionale in cui è stato previsto anche il counseling e il conselor e il consolo fra le altre cose oggi in italia può iniziare a fare il conselor che si iscriva alla camera di commercio e si faccia per una partita iva come conselor invece le varie associazioni categoria che sostituiscono l'albo pretendono che siano fatti almeno i tre anni di studi di base con una serie un serio programma e una serie di interventi esperienziali questo è quello che prevede la legge in italia oggi il conselor cosa fa in definitiva il consolo lavora con l'empatia e con l'ascolto cercando di dare alla persona in difficoltà sia esso difficoltà lavorativa in difficoltà affettiva in difficoltà e su alcune scelte magari di studio in difficoltà di relazione con la moglie coi figli con la famiglia dare delle chiavi degli strumenti per cui lui con le sue forze le sue energie le sue capacità riesca a superare questo momento di difficoltà quindi non va confusa con lo psicologia con lo psicologo con lo psicanalisi che sono tre cose diverse consili psicologia psicanali sono tre cose diverse che possono anche convivere non è detto che non possano convivere possono anche convivere oggi in italia c'è parecchia confusione anche perché in italia si fanno sempre per non indispettire una categoria piuttosto che l'altra si fanno sempre quelle cose un po lascia che si faccia lascia che si dica e quindi non c'è mai chiarezza comunque il consolo è una delle professioni di aiuto come dicevamo come il naturopata e chi pratica reiki maestro di reiki come tutta una serie di professioni di aiuto che esistono in italia il consolo deve cercare attraverso l'ascolto e l'impatia di dare delle chiavi alla persona che a lui si rivolge per poter affrontare e risolvere quella problematica in cui si è impantanato sia il soluto se esso una difficoltà come dicevamo di lavoro o di relazione quindi non fa altro che aiutare la persona a trovare in sé le capacità e le soluzioni per poter risolvere il problema stesso o per poterlo superare quindi con se li il consolo non fa altro che ascoltare e dare una chiave per riassumere dare una chiave di lettura all'ascolto e dare una chiave al cliente per poter superare un momento di crisi o di difficoltà chi non entri nelle patologie psichiatriche o psicologiche se volete saperne di più seguitemi sul mio canale che andiamo avanti con le professioni di aiuto e poi andremo avanti con le varie con le varie tecniche e specialità delle varie professioni di aiuto iscrivetevi al canale è gratuito e a me date la possibilità di crescere come canale mettete un bel like ci vediamo al prossimo video ciao da ermanno